Ciao, finalmente è online la super programmazione annuale per allenarti. Super massa bodybuilding è la programmazione che ho creato quest'anno per darti 10 super workout per allenarti con delle super strategie d'allenamento. Strategie d'allenamento inedite che ti accompagneranno per tutta la stagione e direi che queste programmazioni sono ideali sia che tu vorrai allenarti in casa sia che tu vorrai allenarti in palestra. Ma adesso nel video ti racconterò meglio tutto così scoprirai se queste programmazioni sono adatte a te. Una cosa ci tengo a precisare, non sono adatte a quelle persone che pensano che i risultati piovano dal cielo. Per ottenere dei risultati veri dovrai impegnarti, dare tutto te stesso in ogni seduta, in ogni mesociclo di lavoro ma alla fine io so che andrai a ottenere la tua miglior forma fisica di sempre. In questi anni ho allenato migliaia di persone in stile bodybuilding, migliaia di appassionati di allenamento, di costruzione muscolare hanno seguito in questi anni le mie guide annuali di programmazione e anche quest'anno non poteva mancare. Quindi anche quest'anno troverai all'interno di queste 10 programmazioni delle metodiche che ti daranno secondo me ulteriori stimoli ma ti motiveranno anche perché sono diverse rispetto a quelle degli anni passati. In questo percorso io sarò lì vicino a te e vorrò essere il tuo personal trainer. Cosa troverai all'interno di questa programmazione di quest'anno? Come andrei a vedere in questa pagina ci sono tre pacchetti. C'è un parchetto iniziale base in cui troverai il manuale in pdf con i 10 programmi d'allenamento e poi un ulteriore manuale con tutti gli esercizi rappresentati in foto e con una breve descrizione testuale in modo tale che tu possa andare a mettere in pratica gli esercizi in forma corretta. Poi c'è il pacchetto intermedio che è quello che probabilmente tengo a consigliarti perché all'interno di questo pacchetto intermedio oltre al manuale in pdf con i 10 programmi d'allenamento oltre al manuale con le foto e la descrizione degli esercizi troverai anche un ulteriore manuale con l'allenamento basandoti esclusivamente con i manubri. Quindi magari ti alleni in casa, non hai la possibilità di andare in palestra hai a disposizione una panchetta e due manubri bene, potrai andare ad applicare le varie programmazioni anche comodamente a casa o andando a fare una piccola spesa per acquistarti i manubri e sono allenamenti veri perché ti accorgerai che in ogni allenamento dovrai sudare le famose sette camicie per riuscire a portarli al termine e riuscire a dare il massimo per i tuoi muscoli ma non basta. All'interno di questo pacchetto intermedio ho inserito anche un video corso sul bodybuilding con all'interno circa 150 video tutorial di ogni esercizio quindi qualsiasi esercizio che tu vorrai mettere in pratica all'interno di questo video corso c'è ci sono io che ti spiego e ti faccio vedere gli esercizi perché come ho detto veramente in tantissimi video la tecnica degli esercizi deve sempre essere il primo posto quindi ti inviterò a guardare questi video tutorial perché voglio che tu andrai a mettere in pratica gli esercizi in forma corretta così applicando le mie metodiche di allenamento andando ad applicare gli esercizi in forma corretta riuscirei a ottenere grandi risultati ma all'interno di questo pacchetto ti ho messo ulteriori materiali di altissimo valore perché sappiamo che l'alimentazione è fondamentale in un percorso di miglioramento fisico e quindi ho chiesto all'esperto nutrizionista Cristian Moletto di prepararmi dei manuali per darti le giuste indicazioni alimentare per andare a centrare dei grandi risultati quindi troverai un manuale orientato alla definizione muscolare per capire come si va a strutturare un percorso di definizione muscolare e andare a visionare anche delle alimentazioni per andare a fare definizione muscolare e poi troverai un altro manuale per andare a capire come strutturare un percorso per la crescita muscolare quindi in questo manuale Cristian ti dà tutte le direttive e ti fa vedere anche degli esempi di dieta per andare a costruire un'alimentazione efficace per la massa muscolare quindi capisci che tutto questo materiale ha un valore altissimo e poi ti ho preparato ancora un ulteriore manualetto in cui ti vado a presentare alcuni suggerimenti su come andare a costruire la tua home gym personale perché in questo periodo tanti hanno deciso di allenarsi in casa e quindi in questo manuale io ti vado a presentare secondo me gli attrezzi ideali per riuscire a praticare bodybuilding in casa andando a fare la giusta spesa ma soprattutto con attrezzi seri che possano durarti una vita intera quindi all'interno di questo pacchetto è veramente tutto per allenarti al meglio e mettere in pratica alla perfezione le mie schede d'allenamento e poi vedrai in questa pagina che c'è un ulteriore pacchetto avanzato così potremo andarlo a definire in cui all'interno di tutto quello che c'era nel pacchetto intermedio troverai anche la consulenza con il nutrizionista quindi qua ci sarà una vera consulenza diretta con il nutrizionista che ti permetterà di stilare la tua prima alimentazione e quindi partire con il piede giusto ho pensato proprio a tutto quindi potrai scegliere il pacchetto più adatto alle tue caratteristiche ma tutto questo ti permetterà di allenarti un anno intero con me e di andare a centrare grandissimi risultati in questi anni in tanti di voi si sono già allenati con le mie schede sono decine di migliaia le persone che ogni anno si allenano con i miei programmi di allenamento oltre un milione di persone mi seguono sui social mi hanno fatto diventare il personal trainer più seguito in Italia e tutto questo perché in ogni programma d'allenamento metto le mie competenze quindi troverai metodiche come ti ho detto un po' all'inizio del video inedite ma molto molto efficaci che andranno a stimolare il tuo corpo in una maniera unica quando acquisterai questo pacchetto ti arriverà una mail con l'accesso diretto alla tua area personale sulla mia piattaforma all'interno di questa piattaforma troverai tutti i contenuti che hai acquistato quindi potrai cominciare a leggerli e potrai iniziare a metterli in pratica così facendo io sono sicuro che riuscirai ad avere tutto quello che ti serve per far sì che questa possa essere la tua miglior stagione di sempre ci alleneremo insieme io sarò lì con te non mi resta che augurarti buon allenamento e dacci dentro ciao ciao ciao